I piccoli Francesco e Raniero Messina di 13 e 10 anni sono morti questa notte in un incendio scoppiato in un'abitazione della città dello Stretto e l'arrogo partito da un cortocircuito in cucina. L'annuncio arriva in un comunicato stampa, Biancavilla apre il nuovo padiglione dell'ospedale Maria Santissima Adolorata, trema il Santissimo Salvatore visto l'annuncio di depotenziamenti possibili, oggi incontro tra il sindaco Nino Naso e il comitato per l'ospedale. Hanno preso carta e penna per scrivere alla prefetto di Catania chiedendo interventi in merito alla vicenda dell'IPAB Salvatore Bellia, autori della richiesta e i sindacati di CGL, Cisle e Will. Consegnato questo pomeriggio all'Unitalsi il materiale che sostituirà quello rubato nei giorni scorsi al centro di urno per disabili di Viale dei Platani, una gara di solidarietà promossa da Valentina Borzia e Giovanni Arcidiacono e che ha visto al loro fianco tanti paternesi. A Catania la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un valore di 45 milioni di euro a Puccio Giombattista, catanese, titolare di un'impresa di produzione di imballaggi. L'uomo è ritenuto vicino alla criminalità organizzata. Questa mattina l'Inps di Adrano ha disposto il pagamento di 7.000 indennità di disoccupazione agricola, a beneficiarne i lavoratori di Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia, ad annunciarlo il segretario della Willa Willa di Adrano, Nino Lombardo. Bilancio positivo per la prima edizione della festa della Madonna della Scala avvenuta lo scorso fine settimana. I componenti del comitato ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della festa. A Villa delle Favare, chiusura del PON e i NO che aiutano a crescere, rivolto ai genitori degli alunni del secondo circolo didattico, i pericoli della rete e il cyberbullismo al centro del progetto. Nella parrocchia San Paolo di Adrano fervoni preparativi in vista delle celebrazioni della Madonna Consolata che culmineranno il 20 giugno. Edizione della sera per Chuck News che apriamo andando a Messina dove questa notte si è consumata una tragedia e infatti in un appartamento della città pelloritana hanno trovato la morte i piccoli Francesco e Raniero Messina, due fratellini di 13 e 10 anni morti in un incendio scoppiato in un'abitazione proprio alle 4 di notte. Il rogo sarebbe partito a causa di un cortocircuito in cucina. I dettagli nel primo dei nostri servizi. Sono morti nel peggiore dei modi i fratellini Francesco e Raniero Messina di 13 e 10 anni rimasti uccisi questa notte nell'incendio della loro abitazione alla civico 134 di via dei Mille a Messina. Il rogo, secondo la ricostruzione fornita dai vigili del fuoco, è partito dalla cucina. Fatale sarebbe stato proprio un cortocircuito che avrebbe innescato intorno alle 4 le fiamme che a poco a poco hanno interessato la stanza alimentate dal legno con cui era costruito il suo palco presente nell'abitazione. Una tragedia resa ancora più straziante dal fatto che il fratello più grande, Francesco, nel disperato tentativo di salvare il fratello più piccolo, è tornato in casa prima dell'arrivo dei soccorsi, ma nessuno è più riuscito a vederlo inghiottito dalle fiamme e dal denso fumo che aveva reso l'aria irrespirabile. Aghiacciante il racconto reso da un cugino ai colleghi del sito lasicilia.it. L'incendio è divampato intorno alle 4, spiega il testimone. Ho sentito urlare e bussare forte alla porta, erano i miei cugini e i loro figli. Sono entrati e poi ho visto nelle scale anche il loro bambino di 13 anni che si è accorto che mancava quello di 10 ed è scappato scendendo al piano di sotto per salvarlo, ma poi non è più risalito. Abbiamo tentato in tutti i modi con mio cugino di salvarli, ma le fiamme erano troppo forti e il fumo non faceva vedere nulla. Lui ha anche indossato una coperta bagnata cercando di entrare, ma poi ha dovuto desistere. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta e il PM ha disposto il sequestro dell'abitazione in cui viveva la famiglia, formata oltre che dai bambini scomparsi, dai genitori e da altri due fratelli. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme che nel frattempo avevano distrutto l'abitazione e danneggiato parzialmente anche quelle ai piani superiori, non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo dei piccoli su cui sarà effettuata l'autopsia. La notizia ha sconvolto l'intera città. Messaggi di cordoio da tutte le istituzioni pubbliche, mentre i due candidati sindaco al ballottaggio della città, Dino Bramanti e Cateno De Luca, hanno annunciato di sospendere i comizi per un giorno in segno di lutto. Cambiamo argomento e andiamo a Paternò. L'annuncio arriva in un comunicato stampa e riguarda in prima battuta la prossima apertura tanto annunciata del nuovo padiglione dell'ospedale biancavillese Maria Santissima Dolorata. Trema però il Santissimo Salvatore di Paternò visto l'annuncio di possibili depotenziamenti. Oggi incontro tra il sindaco Nino Naso e il Comitato per l'ospedale. La data fissata è quella del prossimo 25 giugno. È ufficiale l'apertura del nuovo ospedale Maria Santissima Dolorata a Biancavilla. In un comunicato stampa dell'ASP si legge l'attivazione del nuovo presidio si riterrà definitiva quando saranno completati tutti i controlli sulla sicurezza della struttura. Coglie di sorpresa la voce assolutamente priva di fondamento che in tale cornice di traslochi sia prevista la chiusura del servizio di radiologia di Paternò per essere spostato presso il nuovo ospedale di Biancavilla. La divulgazione di notizie non veritiere, continua nella nota stampa l'ASP, ha il solo risultato di creare un immotivato allarme sociale nella popolazione, considerato altresì l'ormai imminente definizione della nuova rete ospedaliera. Rete ospedaliera che va ricordato è figlia di un decreto che è stato congelato dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza per essere studiata, valutata con l'obiettivo di poter rispondere alle reali esigenze territoriali in tema sanitario. Intanto a Paternò le voci si sono fatte sempre più insistenti rispetto a un depotenziamento della Santissimo Salvatore. Si è tornato a parlare di attivazione della chirurgia complessa a Biancavilla con Paternò che doveva restare unità semplice. Questo significa fine degli interventi importanti, soprattutto le urgenze, con la vera attività chirurgica da effettuare a Biancavilla. A questo si aggiunge che l'attività di radiologia, secondo le voci, a Paternò doveva essere ridimensionata, trasformandosi da H24 a attività effettuata con medici reperibili. Ma come detto sono solo voci smentite con decisione dall'ASFA di Catania, ma è bastato questo per far scattare l'allarme a Paternò. Non a caso oggi è previsto un incontro tra i componenti del Comitato per l'ospedale di Paternò e il Sindaco Nino Naso, già attivatosi con un contatto diretto con il Presidente della Regione Nello Musumeci e con l'Assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza. Abbiamo la massima fiducia nelle istituzioni regionali, evidenzia il Sindaco Nino Naso. Resteremo vigili perché non possiamo subire ulteriori depotenziamenti. Del caso informati anche i deputati regionali del territorio. E dalla questione ospedale ad un'altra vicenda piuttosto delicata che riguarda sempre la città di Paternò in special modo. L'IPAB Salvatore Belli hanno preso carta e penna per scrivere alla prefetto di Catania chiedendo interventi in merito alla vicenda dell'IPAB Belli. Autori della richiesta i sindacati di CGL, CISL e UIL. Sentiamo di più. Hanno ripreso carta e penna per scrivere al prefetto di Catania, al commissario straordinario dell'IPAB Belli, a Giovanni Rovito e al Sindaco di Paternò Nino Naso. I rappresentanti sindacali di CGL, CISL e UIL, Carmelo Di Stefano, Maria Luisa Grasso, Armando Cocco, Giuseppe Scire, Stefano Passarello e Roberto Presti Giacomo, tornano ad accendere i riflettori sulla casa d'ospitalità Salvatore Belli a di Paternò, per il quale lamentano l'assoluto silenzio. A preoccupare non sono infatti le 43 mensilità di stipendio arretrate per i dipendenti, ma lo stallo rispetto ad una situazione che resta appesa ad un filo, con un futuro per l'ente assolutamente incerto. In particolare, nella nota, i rappresentanti sindacali chiedono un intervento diretto del prefetto per tentare di trovare una soluzione alla problematica, soprattutto alla luce della sentenza della TAR di Catania, che ha bocciato il ricorso del comune di Paternò decidendo per un'integrazione dei dipendenti nella pianta organica dell'ente. Sentenza contro la quale ha presentato opposizione al CGA il comune, evidenziando l'impossibilità di farsi carico dei debiti della casa d'ospitalità, ammontante ad oltre 2 milioni di euro, come disposto sempre in sentenza. E sull'argomento è intervenuto anche il consigliere comunale, Entoni Di Stefano, che in una nota stampa afferma, ritengo opportuno che il comune intervenga senza perdere altro tempo per rendere agibile l'ala della struttura dell'IPAB, Salvatore Bellia, che consentirebbe di accogliere nuovi ospiti e permetterebbe così all'istituto di lavorare in modo economicamente più efficiente. Si tratta di una questione ampiamente conosciuta, continua Di Stefano, al punto che già da parecchi mesi si parla di un intervento sulla struttura. Mi domando a che punto si è, conclude Di Stefano, l'IPAB può continuare a sopravvivere solo se aumentano anche le entrate e l'agibilità di quell'ala è un passo determinante. Ed è stato consegnato invece questo pomeriggio all'Unitalsi il materiale che sostituirà quello rubato nei giorni scorsi al centro di urno per disabili di Viale dei Platani, una gara di solidarietà promossa da Valentina Borzi e Giovanni Arcideacono e che ha visto al loro fianco tanti paternesi. Li abbiamo raggiunti proprio questo pomeriggio durante la consegna dei beni che sono stati raccolti. Ecco l'intervista. Giovanni Arcideacono, proprio pochi giorni fa un furto davvero vergognoso all'interno di questa importante struttura rivolta al sociale, il centro di urno per disabili di Viale dei Platani. Dallo sdegno per questa azione ignobile è partita questa gara di solidarietà promossa proprio da te, da Valentina Borzi che già vi eravate impegnati su altri fronti soprattutto per la vertenza degli ex lavoratori QE. Ebbene nel giro di pochi giorni avete registrato davvero la grande solidarietà dei paternesi che ancora una volta ha risposto perché chiedavate tutto ciò che era stato rubato all'interno della struttura e i paternesi in pochi giorni lo hanno restituito e oggi voi lo consegnerete proprio agli ospiti di questa struttura. In un solo giorno salve, in solo 24 ore, paterno ha risposto benissimo al nostro appello, in 24 ore abbiamo recuperato tutto ciò che barbaramente era stato distrutto o preso da questo centro, abbiamo recuperato pannoloni, traverse, lo stereo, la macchinetta del caffè e anche un contributo economico per poter sistemare le porte, le finestre o le cose che sono state ripeto barbaramente distrutte da questo centro. Sarà sistemato anche l'infisso che è stato forzato durante il furto? Spero che il contributo economico sia appunto destinato a sistemare tutto quello che ripeto è stato distrutto in maniera tale da poter rendere funzionale nuovamente il centro come lo avevamo lasciato. Giovanni per ruoli diversi abbiamo raccontato diverse pagine recenti della città di Paternò ma un furto come questo, lo ripeto, è davvero vergognoso, rubare pannoloni, rubare il caffè a coloro che già soffrono di disabilità è davvero senza giudizio e non ci sono parole davvero per un'azione del genere. Non ci sono aggettivi e consentimi di dire che a prescindere dal luogo atti come questi sono da condannare, a prescindere che sia un centro da disabito, che sia il palazzetto dello sport. Spero che il gioco al saccheggio che questa città sta vivendo finisca proprio con il furto al centro per disabili e non ce ne siano più di questi furti. Lancio questo appello alla comunità paternese che comunque è molto sensibile a queste cose. Restiamo a Paternò perché è giunto un comunicato stampa del gruppo Paternò Terzo sulla vicenda, ne abbiamo parlato dei giorni scorsi, dei container in piazza Dompino Puglisi, un lungo comunicato che andiamo a leggere, premesso che ciò che facciamo lo facciamo perché riteniamo sia giusto di aiuto alla comunità e non per avere riconoscimenti, pur essendo lusingati da quanto ci viene riconosciuto per il servizio in città, ci sembra doveroso precisare, dicono gli scout, alcune cose dopo il recente servizio riguardo alla rimozione dei containers. La precisazione arriva perché non ci piace la strumentalizzazione delle nostre attività da parte di chi ha fame di meriti e notorietà, mentre siamo ben disponibili a ringraziare e riconoscere pubblicamente meriti che realmente appartengono a chi dà il proprio contributo e ci riferiamo alla disponibilità delle tre amministrazioni che nel tempo si sono occupate con disponibilità di questa situazione, failla, mangano e naso, qualunque sia il loro ruolo o il colore politico, come abbiamo dimostrato finora. Purtroppo stavolta, per l'attività dei cestini per i cani all'interno del nostro intervento durante l'Agni Week, sulla quale non abbiamo voluto commentare per non macchiare il clima positivo che si era diffuso in tutta la città, vengono attribuiti dei meriti ai consiglieri della quinta commissione consigliare che non appartengono loro, dicono gli scout. Lo sblocco burocratico alla regione, nonostante la disponibilità al dialogo e alla collaborazione dell'amministrazione, che non possiamo certo negare, è stato ottenuto però dal gruppo scout, arrivato dopo circa sei mesi di contatto costante con il Dipartimento a Palermo e con quello di Catania. Un plauso, questo sì, va dato anche da parte nostra a tutti coloro, amministrazione, consiglio, club service e dasti, che si sono attivati per la pulizia della piazza successivamente allo smontaggio dei containers e per la riqualificazione con i canestri che possa dare una continuità sociale al nostro lavoro. Ci teniamo anche a ringraziare, concludono gli scout del Paterno Terzo, la redazione di Chuck News per l'attenzione alle realtà cittadine e la disponibilità con cui svolge il proprio lavoro. A Catania la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un valore di 45 milioni di Euro a Puccio Gion Battista, catanese titolare di un'impresa di produzione di imballaggi. L'uomo è ritenuto vicino alla criminalità organizzata. Il servizio. La Guardia di Finanza di Catania, su proposta della Procura della Repubblica, ha eseguito un provvedimento di applicazione di misura patrimoniale emesso dal Tribunale Etneo, sezione misure di prevenzione, finalizzato al sequestro di attività commerciali, immobili e autovetture e disponibilità finanziare per un valore complessivo di circa 45 milioni di Euro, riconducibili a Puccio Gion Battista. Le indagini svolte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economica e Finanziare di Catania, condotte sulla base di intercettazioni ambientali, dichiarazioni da parte di collaboratori di giustizia e dall'esame di documentazione bancaria e contabile e di atti pubblici e scritture private, hanno permesso di ricostruire e tracciare un quadro complessivo delle imprese di fatto gestite da Gion Battista e dal suo assetto patrimoniale illicitamente accumulato. L'evidente pericolosità del Gion Battista era stata già certificata durante l'indagine denominata Operazione Gostrash, che nello scorso dicembre ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautolare per otto persone indagate per associazione a delinquere di stampo mafioso, finalizzata l'acquisizione di posizioni dominanti nel settore economico della realizzazione di imballaggi destinati alle produzioni ortofrutticole di Vittoria, intestazione fittizia di imprese e traffico illecito di rifiuti. In quell'occasione Puccio Gion Battista è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile della creazione di un vero e proprio cartello mafioso di imprese che ha assunto il dominio del settore degli imballaggi nel territorio di Vittoria. I finanziari inoltre hanno accertato il convolgimento di alcune aziende riferibili al Puccio in un articolato sistema di illecito stoccaggio di rifiuti e sono giunti a ricostruire un nuovo modus operandi dei consensi mafiosi. Le aziende del Puccio che inizialmente avevano ottenuto il controllo del settore alla vecchia maniera mafiosa con il soppruso e l'intimidazione sono così diventate il numero uno della filiera commerciale e stromettendo via via tutte le aziende concorrenti. Le complesse indagini patrimoniali eseguite anche con l'ausilio del sofisticato software Molecola sviluppato dalla Guardia di Finanza ha consentito di sottoporre a sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione i beni immobili e mobili. Beni immobili registrati, due attivature e un autoveicolo, titoli e rapporti finanziari, 15 conti corrente e due conti deposito, immobili 11 fabbricati e 50 terranei situati nel territorio di Vittoria. Il complessivo patrimonio sottoposto a sequestro per la successiva confisca è stato stimato in circa 45 milioni di euro. E adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, la nostra informazione riprende subito dopo. Energreen Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo. Energreen Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, realizzando impianti fotovoltaici, sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera, dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie, dall'installazione all'assistenza post vendita fino alla manutenzione. Affidati a personale esperto, scegli Energreen Power. In questo periodo da Energreen Power, grandi promozioni. Impianto fotovoltaico 3 kW più batterie accumulo 2,4 kWh. Offerta chiave in mano IVA inclusa 6.900 euro. Impianto 4,5 kW più batterie accumulo 4,8 kWh. Offerta chiave in mano IVA inclusa 9.900 euro. Impianto 6 kW più batteria accumulo 5,5 kW. Offerta chiave in mano IVA inclusa a 13.900 euro. Per info e sopralluoghi chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Energreen Power, contrada a Tre Fontane e Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it Rientriamo in studio con la seconda parte del nostro telegiornale. I saldi estivi in Sicilia si svolgeranno dal 1 luglio al 15 settembre. Lo prevede il decreto dell'assessore regionale alle attività produttive. Mimmo Turano firmato questa mattina. La decisione dell'assessore è arrivata al termine dell'incontro con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni di consumatori che si sono espresse a favore dell'anticipo dei saldi estivi. Questa mattina l'Inps di Adrano ha disposto il pagamento di 7.000 indennità di disoccupazione agricola. Beneficiarne i lavoratori di Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia ad annunciarlo il segretario della Will-a-Will di Adrano, Nino Lombardo. Sentiamo. C'è una buona notizia per i lavoratori. Questa mattina l'Inps di Adrano ha disposto il pagamento di 7.000 indennità di disoccupazione che riguarda non solo i lavoratori di Adrano ma anche di Biancavilla e Santa Maria di Licodia la classica boccata di ossigeno estiva per i lavoratori. Possiamo definirla così? Sì, la nostra Inps, a parte Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, liquida pure i comuni di Maniace, di Bronte e di Maletto. Quindi sono 6 comuni per un totale di circa 7.000 braccianti agricole. Come noi abbiamo preannunciato qualche giorno fa, sono stati liquidati qui ad Adrano circa 3.000 braccianti agricoli. Quindi per una somma di circa 10 milioni di euro. Quindi altro che boccata di ossigeno. Ma la cosa che praticamente mi lascia ogni anno stupefatto è il fatto che a parte i braccianti che mi chiedono se arrivano i tabulati, com'è la situazione, molti commercianti e artigiani mi chiedono se arriva questa indennità perché tantissimi artigiani e commercianti grazie a questa indennità diciamo hanno una boccata di ossigeno. Ecco, i soldi saranno nei conti correnti tra una settimana circa? Sì, i soldi ormai arrivano in tempi molto veloci. Tra 4-5 giorni saranno già canalizzati sui conti correnti e quindi ognuno con la propria banca può accedere alle somme. Non dovrebbero esserci intoppi di nessun tipo? No, intoppi di solito c'è qualche problema con l'assegno familiare, il codice fiscale, ma questi grazie alle nostre organizzazioni riusciamo subito a risolverle. Quest'anno l'indennità di disoccupazione, tutta la procedura è filata liscia rispetto agli altri anni. Sì, ma ormai da qualche anno noi siamo riusciti praticamente a portare avanti le nostre rivendicazioni e l'IMSI a quanto pare ha capito che praticamente i braccianti, soprattutto quelli veri, devono essere tutelati. Ed una buona notizia questa mattina per 4 professori dell'Istituto Superiore, Francesco Desantis di Paternò, cerimonia di pensionamento infatti per i 4 docenti del Desantis che oggi, proprio oggi, questa mattina sono stati accolti dal corpo decente e dalla dirigente dell'Istituto proprio per la festa di pensionamento. In pensione sono andati Pina Clemenza, Carmela Musumarra, Barbara Tortorella e Salvatore Bruno. Ai docenti dell'Istituto Desantis appena andati in pensione gli auguri anche da parte della redazione di Ciac News. E bilancio positivo per la prima edizione della festa della Madonna della Scala avvenuto lo scorso fine settimana. I componenti del comitato ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della festa. Bilancio positivo per la prima edizione della festa della Madonna della Scala, l'evento che lo scorso fine settimana ha acceso i riflettori sul quartiere di Scala Vecchia e la sua comunità. Un legame rinsaldato nel nome della nuova parrocchia di Sant'Antonio, retta dal parroco padre Nino Pennisi. Dal 7 al 10 giugno diversi momenti che hanno arricchito la festa. La conferenza sul monastero di Santa Maria della Scala organizzata da Sicilia Antica, la processione eucaristica di venerdì 8 giugno ed ancora il mercato artigianale in piazza Don Pino Puglisi, lo spettacolo dei cantastori e l'opera dei pupi, fino al gran finale di domenica con le esibizioni delle scuole di ballo, di karate e l'evento di moda. Tanti eventi organizzati dal comitato alla scala che ha coinvolto anche diversi sponsor oltre alla presenza indispensabile delle associazioni che hanno contribuito allo svolgimento della festa. C'è stata questa bella iniziativa da parte del comitato insieme alla parrocchia, è stata veramente una iniziativa partecipata da parte di tutto il quartiere perché devo dire che sono stati molto partecipi sia nell'organizzazione sia nel quartiere, sia effettivamente essere presenti nelle due serate che abbiamo organizzato. Tanti momenti di spettacolo che servono per costruire anche quel senso di comunità, no? Non solo nel senso di comunità ma servono per riappropriarci di questi spazi che abbiamo qui in tutta questa zona perché questi spazi sono stati lasciati per molto tempo abbandonati sia dall'amministrazione che anche da noi residenti per cui ci siamo riappropriati di uno spazio che è il nostro. Alla fine di questa festa a chi vanno i ringraziamenti? I ringraziamenti vanno all'amministrazione che è stata molto partecipe e ci ha aiutato molto nell'organizzazione della festa, vanno a noi del comitato, ci facciamo i complimenti perché è la prima manifestazione e devo dire che è riuscita, va soprattutto a Padre Nino perché è stato lui a stimolare tutto il quartiere verso questa rinascita con la parrocchia e anche a darci coraggio per quanto riguarda il comitato e va ai residenti del quartiere che hanno partecipato con molta gioia a questi eventi. Una manifestazione che ha lasciato un ricordo positivo e che si spera di far diventare un appuntamento fisso per Scala Vecchia. Spero di sì, che sia la prima di una lunga serie. Invito tutti i residenti a iscriversi al comitato, a farne parte e a partecipare vivamente al comitato, non solo economicamente ma proprio a darci una mano. Ci spostiamo a Biancavilla, Villa delle Favare, chiusura della Ponna e No che aiutano a crescere rivolto ai genitori degli alunni del secondo circolo didattico, i pericoli della rete e il cyberbullismo al centro del progetto. Il servizio. Chiusura del Ponna e No che aiutano a crescere questa mattina a Villa delle Favare a Biancavilla, un modulo rivolto ai genitori degli alunni del secondo circolo didattico di Biancavilla che ha avuto come obiettivo quello di affrontare una tematica importante, quali i rischi della rete e il cyberbullismo. Una campagna di sensibilizzazione durata 30 ore che si è conclusa questa mattina con l'intervento del dottor Marcello Labella, dirigente della Polizia Postale di Catania e della dottoressa Laura Pistorio, psicologa e psicoterapeuta ed esperta del modulo. Quali sono questi pericoli della rete? Sono i pericoli della vita reale, amplificati comunque da un mondo che non conosce spazio e non conosce tempo, al che è necessario rendere consapevoli non solo i ragazzi, cosa che noi facciamo quotidianamente nelle scuole, ma anche i genitori e gli adulti, fargli capire che problematiche che riguardano non solo la pornografia minorile ma anche il cyberbullismo e quindi episodi magari meno gravi, però hanno dei riflessi negativi che si ripercuotono direttamente sui loro ragazzi. Il ruolo dei genitori e degli insegnanti lei ha focalizzato molto e l'attenzione su questo qual è? È quello di fare un'attività di controllo, supervisione su tutto quello che fanno i loro figli e anche dare il buon esempio, perché spesse volte proprio dagli adulti partono dei cattivi esempi nell'utilizzo dei social di internet verso i più piccoli. Per la bella la soluzione non può essere quella di vietare agli adolescenti l'uso delle chat e dei social fino al raggiungimento dei 18 anni di età. Questo dei 18 anni mi sembra un po' eccessivo. Dire sempre no su situazioni che comunque riguardano la socializzazione dei ragazzi non è la migliore arma. La migliore arma è invece dargli un'educazione sull'utilizzo che è la cosa più importante. Ecco, si parla di pericoli di rete, si parla di cyberbullismo, un corso che è stato rivolto ai genitori, una campagna di sensibilizzazione importante in un'epoca in cui i social ne fanno da padrone. Sì, allora l'intervento del dottore Labella è stato appunto un intervento richiesto per sostenere le nostre preoccupazioni che nel corso dell'anno si sono manifestate in relazione all'uso o forse è meglio dire all'abuso che di social e media anche i più piccoli fanno. L'intervento però l'abbiamo collocato temporalmente in questa manifestazione che è l'evento conclusivo di un PON, il PON Inclusione, all'interno del quale è stato attivato un modulo di sostegno alla genitorialità, i no che aiutano a crescere. Quindi i nostri genitori, una trentina di genitori della scuola guidati dalla dottoressa Pistorio, hanno frequentato per 30 ore attività formative destinate proprio a sollecitare, sollevare e sostenere la capacità dei genitori di saper dire di no. Questo giustamente per sostenere e potenziare la capacità genitoriale a sostegno dello sviluppo equilibrato e sano dei nostri bambini. Prende il via paternò l'attività dell'archeoclub Ibla Maior Paternò, la neonata sezione come primo impegno vuole mettere a disposizione degli studenti e per tutti coloro che osservano la collina storica e ne fanno impegno di studio e di ricerca. Non è un caso isolato se l'archeoclub Ibla Maior sostiene un progetto di ricerca di una studentessa dell'Accademia di Belle Arti di Catania sulla potenziale fruizione di un contenitore culturale dell'acropoli per realizzare una mostra di arte contemporanea. Al fine di programmare un palinzesto di attività ed eventi associativi è fissato un incontro in programma il prossimo 21 giugno. E nella parrocchia di San Paolo ad Adarano fervono i preparativi in vista delle celebrazioni della Madonna Consolata che culmineranno il 20 giugno. Quest'anno tante le iniziative in programma in occasione del cinquantesimo anniversario della presenza della Madonna Consolata nella chiesa di San Paolo. La parrocchia di San Paolo di Adarano si appresta a celebrare la festa della Madonna Consolata giorno 20 giugno è stato allestito un ricco programma. Quest'anno è un anno particolare perché si celebra il cinquantesimo anniversario della presenza della Madonna Consolata qui ad Adarano e quindi nella parrocchia di San Paolo. Don Nicola Petalia, diciamo quali sono gli appuntamenti più importanti del programma? L'appuntamento più importante in preparazione alla festa è domenica prossima, 17, con la presenza del cardinale su eminenza Paolo Romeo per solennizzare proprio il cinquantesimo della presenza della Consolata in questa parrocchia. È stato nel 1968 quando padre Lamela, parroco di questa parrocchia, primo parroco, ha portato la statua della Consolata. Lui è stato qualche anno missionario della Consolata, è stato in Kenya e poi è venuto qui. Inizialmente è stato parroco al cuore immacolato, poi è stato nominato parroco di questa parrocchia. Per devozione alla Consolata ha portato la statua qui. Ma i disegni di Dio sono meravigliosi anche perché la presenza della Consolata significa che lei è stata consolata in tutti gli avvenimenti della sua vita, dalla presenza della grazia, dalla presenza del suo figlio e dalla presenza di Dio nella sua esistenza e quindi è anche la consolatrice degli afflitti perché il termine consolata deriva da con solo, cioè sono con il solo quindi non siamo mai soli perché Dio è sempre con noi. Per cui ieri sera proprio sottolineavo ai parrocchiani che nel giro di 250 metri, nell'arco di 250 metri abbiamo tre chiese dove si venera all'inizio la Madonna dell'udienza, la madre dell'ascolto che ci conduce a suo figlio. Lei è la Consolata e quindi rivolgendoci a lei ci consola con le sue grazie per cui abbiamo anche la chiesa tutte le grazie. Udienza, Consolata, tutte grazie per dirci che Maria è sempre presente nella nostra vita. I ragazzi stanno preparando anche una mostra fotografica storica sulla presenza della Madonna. Sì, hanno cercato delle foto, non ci sono molte foto storiche, la maggior parte è da alcuni anni. C'è una ricchezza anche quando è venuta la Madonna delle lacrime esattamente nel 2009, guarda caso, quando abbiamo subito il furto del Santissimo, Maria è venuta a consolarci con le sue lacrime piene di amore e di misericordia verso coloro che hanno perpetrato questa profanazione, verso tutti noi che siamo stati offesi da questo gesto per amore di Gesù. La Madonnina è venuta a consolarci e a comportare anche coloro che hanno fatto quest'atto sacrilego. E questa era l'ultima notizia per l'edizione di Ciac News. Questa informazione riprenderà domani con l'edizione delle 13.30. Vi ricordo inoltre i nostri aggiornamenti sulla pagina Facebook e sul sito www.ciactelesud.com. A voi, buon proseguimento di serata.